Buon viaggio e buon sabato da Firenze Smart da Mauro Ciutini. Sulla 1 c'è un veicolo in avaria tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze. Altro veicolo fermo in A11 tra Firenze Ovest e il Bivio A11 A1, Milano, Napoli in direzione di Pisa. Tornando sulla 1 veicolo fermo tra Valdarno ed Arezzo direzione di Roma. E ricordo sempre in A1 fino alle 6 di lunedì, in modalità continuativa, sarà chiuso il casello di Firenze Sud in entrata verso Bologna. In uscita per chi proviene da Roma, in alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze in pruneità. Lavori a Firenze in via di Novoli, oggi e domani domenica, saranno effettuati alcuni lavori alla rete di distribuzione del gas. La strada sarà chiusa tra via Valdinievole e via Allori, itinerario alternativo via Vecchi, via Baracca, via Allori. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.